Bene, ritrovati anche questa settimana le news dalla Camera di Commercio. Vi parlo subito di una iniziativa importante per le imprese. Il riferimento è allo sportello unico per le attività produttive. Di che cosa si tratta e perché ne parliamo in questo contesto? È uno sportello che vuole realizzare l'obiettivo dell'impresa in un giorno, ovvero ridurre al massimo la tempistica per tutte le attività d'avvio di impresa, di avvio imprenditoriale. La Camera di Commercio ha stipulato accordi con 92 amministrazioni comunali della provincia di Varese, 92 comuni del nostro territorio, comprese tutte le realtà più importanti da Bustorsizio a Varese a Gallarate a Saronno. L'ultimo caso di convenzione è quello con il comune di Castellanza, ma anche Luino. Insomma, veramente da nord a sud, da est a ovest, tutta la provincia di Varese, dicevo, la Camera di Commercio ha stipulato un accordo per rendere operativi, grazie ad un software dedicato, appunto questi sportelli unici attività produttive. Un'iniziativa che va nel segno ancora una volta della semplificazione della vita delle aziende è il rendere, insomma, concretamente più facile fare impresa nel nostro Paese. È un obiettivo ambizioso che si scontra anche con tanti problemi, inutile negarlo, ma la Camera di Commercio è presente a favore del sistema imprenditoriale, come sempre. Cambiamo argomento perché vi devo segnalare una iniziativa importante, una manifestazione significativa che si terrà nel prossimo fine settimana, dal 5 al 7 febbraio, per la precisione, a Malpensa Fiere. Sto parlando di Passatempi e Passioni, che vive la sua quinta edizione, appunto, nel weekend. Si tratta del Salone degli Hobby Creativi al Femminile. Insomma, tante occasioni di incontrare esperti, ma anche di avere prodotti relativi alle proprie passioni, cucito, ricamo, pittura, decorazioni per la casa, ornamenti per cerimonie, cartonaggio. Insomma, un mondo variegato che tutti i visitatori a Malpensa Fiere avranno la possibilità di incontrare dal 5 al 7 febbraio. Bene, è tutto per questa settimana. Ancora una volta, grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.